Alessandro Carrozza, metà settimana di ritiro qua alla Borghesiana, doppi allenamenti, palestra, campo, come state? Diciamo che sta proseguendo abbastanza bene, stiamo lavorando bene, quindi non ci resta che lavorare come stiamo facendo perché credo che stiamo dando il massimo per cercare di fare questa settimana per bene e poi fare un girone di ritorno come si deve. L'unica cosa che ci viene a dire negativa qua, visto che tra di voi il gruppo funziona, ci sono tanti sorrisi, diciamo è il meteo. Viamo un po' penalizzati, campi pieni d'acqua, però non molla niente. No, no, infatti il tempo non ci sta aiutando, però come hai detto tu, fa niente, ci si allena lo stesso, stai aggiungendo magari un po' più i denti e andando avanti per la nostra strada, come ho detto prima, non dobbiamo mollare di un centimetro. Tu hai chiuso la prima parte di stagione alla grande, la vittoria sul Modena, tanti complimenti. Questa sosta ti aiuta o in qualche modo può averti penalizzato? Ma questo non lo so perché comunque è la prima volta che mi succede di fare una sosta così lunga. Mi auguro di no chiaramente, spero di riuscire a riprendere come ho lasciato per cercare di dare una mano alla squadra. L'obiettivo di questo Verona per la ripresa contro uno Spezia che non si conosce perché ha cambiato allenatore? Sì, l'ho detto pure che magari in altre interviste, al di là dello Spezia, non è solo lo Spezia che ha cambiato. Il campionato di ritorno sarà molto più difficile secondo me rispetto all'andata perché comunque le squadre stanno più attenti quando giocano magari si mettono lì, quando si mettono magari indietro a difende perché c'è una squadra che si devono salvare chiaramente hanno bisogno di punti, a volte anche un punto per loro va bene e quando magari giocano contro il Verona fanno la partita della vita e quindi ripeto sarà molto più difficile per noi. In questo ritiro hai notato nel gruppo questa volontà, questa voglia di arrivare all'obiettivo? Quella secondo me c'è stata sempre, la voglia di arrivare in quell'obiettivo che abbiamo già prestabilito di arrivare. Aspetto ludico, chi è il più bravo a ping pong? No, a ping pong non ci ho mai giocato, sto imparando in questi tre giorni, altri tre giorni poi me la posso giocare un po' con tutti. Per chiudere abbiamo visto qualche tifoso anche qua alla Borghesiana, tanto entusiasmo attorno a questo Verona, cosa ti senti di dire ai tifosi che vi aspettano e non vedo l'ora di sostenervi ancora? Ma i tifosi sotto questo punto di vista sono straordinari, ci seguono dappertutto e in tanti pure quindi non ci resta che fare delle prestazioni importanti anche per loro, fare divertire perché loro a noi ci danno tanto ed è d'obbligo per noi dare tanto a loro.